Il Dipartimento di Scienze della Formazione è situato nel cuore di Genova, nel palazzo Exeridania, uno storico edificio di pregevole valore architettonico accanto al Parco Cittadino dell'Acquasola e al Ponte Monumentale di Via 20 Settembre. La sede di Genova ospita la maggior parte dei corsi di studi presenti nell'offerta formativa del DISFOR, ma il Dipartimento coordina e partecipa in corsi di laurea anche presso il Campus di Savona e il Campus di Imperia. Presso il Campus Universitario di Savona, il DISFOR coordina il corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione. Il corso intende fornire competenze per svolgere compiti nell'industria culturale e nel settore dei consumi, abilità di comunicazione e relazioni pubbliche, competenze per attività redazionali e giornalistiche, conoscenze nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli insegnamenti si articolano su discipline sociali e mediologiche, discipline semiotiche, linguistiche e informatiche, discipline giuridiche, storico-politiche e filosofiche, metodologie, analisi e tecniche dell'informazione, discipline informatiche e telematiche, scienze umane ed economico-sociali, discipline di progettazione e design dell'informazione. Fra gli sbocchi professionali del laureato in Scienze della Comunicazione possiamo menzionare l'operatore della comunicazione presso enti pubblici e privati, agenzie di pubblicità, consulenza e marketing. Si formano figure esperte in progettazione e messa in atto di campagne di informazione, sondaggi, attività redazionali presso giornali, riviste, radio, tv, ecc. Si formano consulenti di immagine, pubbliche relazioni, progettisti e gestori della comunicazione culturale con i nuovi media, progettisti di contenuti per la comunicazione in rete. Ricordiamo inoltre il laboratorio audiovisivi Buster Keaton, che forma i nostri studenti alle tecniche di ripresa video e alle basi del montaggio audio-video. Il laboratorio mette a disposizione degli studenti del Corso di Scienze della Comunicazione strumenti e competenze per conoscere l'audiovisivo pratico, acquisire capacità professionali e realizzare prodotti audiovisivi attraverso percorsi guidati di gruppo e individuali e promuovendo lo sviluppo di progetti come il documentario sociale, di inchiesta e creativo. Il laboratorio ha anche attivato un canale YouTube dedicato, dove si possono trovare le produzioni degli studenti a partire dal 2006. All'indirizzo www.unige.dispor.it potrete trovare tutte le informazioni utili circa i vari corsi di laurea, un approfondimento sulle discipline insegnate, i servizi di orientamento offerti durante tutto il corso dell'anno dal Dipartimento.